Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Prima vi voglio dire, per favore Seguitemi su TikTok, ho solo 10 follower Seguitemi, per favore Ho fatto questa qua Tante volte perché sempre Si trovavano le canzoni E le canzoni sui copyright Quindi seguitemi E forse oggi giochiamo a questo gioco Se mi incolla Ma a me mi incolla E quindi me lo porto No, mannaggia Queste pubblicità Non c'è mai i million Che non sdesta la pubblicità Però gioco sempre Giochi E che questo Non lo so Io questo video Non so Perché lo sto facendo Sono scarso Comunque Ma stai qua direi Questa canzone C'è la canzone che sto Cavolo Non posso guardare posto Vai Se muoio un'altra volta Forse Ho detto Se muo Ok Se mi piace Puoi da porre Qua la pubblicità Chiudo Beh Non lo so Che fare Ma ragazzi Ho gioco Ma sto gioco Non lo so Ragazzi Ricordatevi di seguirmi Su Su TikTok Stavo dicendo Instagram Alessandro Ritel 73 Io arrivo a 23 Chi è Chi è Ragazzi Ci vediamo domani Forse Ci vediamo domani Non lo so Vabbè Non so che fare Ciao Ciao